L'appartenenza alla maglia, che è la cosa importante, è alla città, alla società e all'allenatore, voglio dire, perché le prime cose che devono dare la garanzia all'allenatore è che hanno gli stimoli giusti per rimanere. Chi eventualmente vuole andare via, non se la sente, voglio dire, sicuramente non lo tratterremo, ma come dicevo prima, il crottone calcio è uno svende i calciatori, è importante, il messaggio che voglio far passare è questo, pensassero che la retrocessione possa metterci nelle condizioni, il crottone è di svendere i calciatori, non è così, a determinate condizioni, se ci sono le condizioni, il calciatore va via. La cosa più importante è creare l'entusiasmo che avevamo prima e questo è molto importante che dobbiamo darlo noi. L'allenatore nuovo sicuramente darà un grandissimo entusiasmo alla squadra, però poi è la squadra che deve dare un grandissimo entusiasmo al pubblico e alle città e noi siamo sicuri di questo. Quindi i giocatori che rimarranno sicuramente, come ho detto prima, ci daranno delle grandissime soddisfazioni perché già abbiamo visto cosa hanno fatto in questi due anni. Quelli che rimarranno sicuramente saranno giocatori molto ma molto motivati. Noi sicuramente tenteremo di tenere più giocatori possibili dell'anno scorso perché sono stati veramente, secondo me, hanno disputato un grandissimo campionato e sono dimostrati veramente grandi uomini. Certamente qualcuno se ne andrà, due o tre sicuramente perché è giusto che se ne vanno, dopo tre anni è giusto che se ne vanno perché ci sono delle richieste, però quelle che rimarranno saranno motivati, già le abbiamo interpellate la maggior parte.